Che cosa accadrebbe se uno dei protagonisti del tennis mondiale dovesse all'improvviso scomparire dai campi? Ti sei mai chiesto quale impatto avrebbe questo sulla stagione e sui fan? Queste sono domande che nessuno si aspetterebbe di dover considerare così presto. Prima di immergerti nei dettagli, ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like per non perderti gli aggiornamenti su questa vicenda che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Esploreremo un evento che ha scosso il mondo del tennis. Ci troviamo nel pieno della stagione dei tornei su Terra Rossa, un periodo cruciale per i migliori giocatori del circuito. Ogni partita può essere decisiva per la classifica e per l'avanzamento nella stagione. Tuttavia, un imprevisto sta per cambiare le carte in tavola. Durante i preparativi per uno degli incontri più attesi al Mutua Madrid Open, una notizia inaspettata ha colpito uno dei principali contendenti. Nonostante un inizio di stagione promettente e alcune vittorie significative, questo atleta ha dovuto prendere una decisione drastica che nessuno avrebbe voluto ascoltare. Le reazioni dei fan e degli esperti sono state di grande sorpresa e disappunto. Stiamo parlando di Yannick Sinner, il giovane fenomeno del tennis italiano, che si è visto costretto a ritirarsi dal torneo a causa di un infortunio all'anca destra. Nei prossimi giorni farò altri test, ha dichiarato Sinner, lasciando intendere la gravità della situazione. Questo evento non solo incide sul suo percorso a Madrid, ma potrebbe anche avere ripercussioni sulle sue partecipazioni ai prossimi importanti tornei a Roma e a Parigi. Quanto può essere grave un infortunio a questo livello del gioco? E come pensi che influenzerà la stagione di Sinner e le aspettative dei suoi fan? Lascia un commento con le tue opinioni e partecipa alla discussione. Non dimenticare di lasciare un like se ti è piaciuto il video e iscriviti per seguire tutti gli sviluppi di questa storia. Alla prossima, con altre notizie e analisi approfondite sul mondo del tennis.